Allora, quando te lo diremo salirei qua sul terzo gradino, metti le punte dei piedi fuori, apri le braccia, 3, 2, 1, al bungee mi fai un bel salto in avanti, ok? Prima la testa e poi i piedi, come piscina. Farai tre rimbalzi, al secondo rimbalzo però, mentre torni un sacco, prendi questa corda e la recuperi fino ad arrivare a questa corda. A questo punto sarai di nuovo a testa in su, noi ti caliamo, sotto c'è un ragazzo che ti passa una corda verde, con una mano prendi la corda verde e ti porta fino a terra. Vedi? Vedo. C'è anche il video. Ok, apri le braccia, 3, 2, 1, bungee! Ok, apri le braccia, 3, 2, 1, bungee! Pagast! Grazie. Grazie.